Buongiorno a tutti. Ho il gradito compito di presentare per l'apertura dei lavori il nostro Presidente del Consiglio di Gestione, Moroni Silvio. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Con piacere quest'anno riproponiamo la Convention della Cedimarche. Voglio ringraziare tutti quanti hanno risposto, come sempre con interesse, alle iniziative promosse dalla nostra cooperativa. Riteniamo importanti questi momenti di condivisione degli obiettivi e strategie aziendali, ma soprattutto di accrescimento delle conoscenze dei mercati e delle nuove tendenze. Come ogni anno sono stati coinvolti dei relatori molto qualificati che sapranno guidarci al meglio in questo percorso di condivisione. Nel 2016 abbiamo ritenuto doveroso rinviare l'evento in segno di rispetto e per dare sostegno nel territorio alle popolazioni colpite dal sisma. Voglio ringraziare in particolare i nostri soci e quanti fra voi hanno condiviso, sostenuto e si sono uniti a questa nostra scelta. Ringrazio infine il Comune di Ancona per la collaborazione che da sempre dimostra alle iniziative promosse dalla nostra organizzazione. Augurando a tutti buon lavoro, è con piacere che passo la parola all'assessore Paolo Manarini per un saluto da parte della città. Grazie. Sono Paolo Manarini, l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Ancona. Sono qui per portare essenzialmente i saluti della città di Ancona a tutti voi, alla vostra presenza e il saluto del Sindaco Mancinelli che purtroppo oggi non è potuto essere qui presente con voi per i suoi impegni istituzionali già presi in precedenza, ma soprattutto per lavorare e continuare a lavorare e a portare avanti il programma di questo mandato che è volto essenzialmente a rendere Ancona una città di qualità. Voi quindi siete una grossa presenza, siete un gruppo molto importante per il nostro territorio in quanto siete stati costituiti circa 40 anni fa, 18 soci, ma soprattutto perché avete 89 punti vendita tra Marche e Abruzzo. Quindi la vostra presenza è una presenza ben radicata sul territorio che sta nel settore della grande distribuzione e quindi una grande realtà imprenditoriale locale. L'appuntamento di oggi che avviene dopo due anni da quello del 2015, chiaramente l'anno scorso è stato saltato come tutti sapete, ma non possiamo altro che ringraziarvi per questo, per il sostegno che avete dato alle popolazioni colpite dal terremoto e quindi per questo vi dobbiamo un grande applauso. Bene, passando al tema della convention, quest'anno parliamo di servizio, evoluzione del servizio, senza voler anticipare un po' quello che saranno poi l'oggetto delle relazioni, parleremo oggi di servizio come prodotto, prodotto con contenuto di servizio. Parleremo di servizio declinato nelle persone, le persone che tutti i giorni si occupano di servizio e parleremo di servizio anche come contatto, quindi come relazione con il nostro consumatore. Crediamo sia un tema molto attuale quello del servizio in un mondo, in un mercato dove ci sono paradigmi che cambiano continuamente e continue accelerazioni e evoluzioni tra online e offline, quindi questa è stata la motivazione per affrontare questo tema. Chiaramente la giornata di oggi è un momento anche per la nostra organizzazione di incontrare tutti quelli che sono i stakeholder della cooperativa, quindi abbiamo il piacere di avere in platea molti di voi e vediamo che quest'anno come gli anni passati la partecipazione è importante, quindi vogliamo condividere con voi e dare qualche numero. Il 2016 è stato un anno molto positivo per la cooperativa, abbiamo in continuità con gli esercizi precedenti confermato i risultati di ottima redditività, abbiamo conseguito un utilienetto di 5,8 milioni, abbiamo proseguito nel processo di consolidamento patrimoniale della nostra organizzazione, siamo arrivati a un livello di patrimonializzazione eccellente di 85 milioni di patrimonio retto e la crescita delle vendite ci ha permesso anche una redditività importante, un EBIT del 5,69%. Sono proseguiti anche e proseguiranno gli investimenti, in particolare gli investimenti per lo sviluppo di nuova rete e per la ristrutturazione della rete esistente e per il 2016-2017 sono stati 19 milioni di euro. Venendo poi al 2017, un anno positivo, lo vedremo anche più avanti, la cooperativa e il nostro gruppo si contè, si avviaggiando con una crescita al 31 ottobre a parità del 6,13%, quindi stiamo viaggiando circa 3 o 4 punti più positivo rispetto al mercato, in particolare abbiamo voluto evidenziare qui la crescita, abbiamo avuto sull'ortofrutta superiore a 9 punti, sui salumi e latticini, sul pesce e sulla carne, anche nel settore dei generi vari, comunque cresciamo oltre 4 punti e mezzo, quindi sicuramente un anno positivo e pensiamo di chiudere il 2017 anche nell'ultimo bimestre confermando il trend di crescita. I nostri soci, vogliamo un attimo condividere con voi quello che sono stati gli ultimi anni, abbiamo affrontato un processo importante di rinnovamento della base sociale, abbiamo inserito all'interno della nostra organizzazione dei nuovi soci, delle nuove professionalità che hanno portato nuovi stimoli, nuove competenze per tutti. Chiaramente abbiamo pure voluto indicare un dato che ci dà garanzia anche prospettive di crescita di medio e lungo periodo dove il 30% dei nostri soci hanno un'età inferiore ai 45 anni e posso assicurarvi che abbiamo dei soci che sfiorano i 30 anni, questo per noi è sicuramente un segnale positivo e sicuramente ci dà garanzia di uno sviluppo, ripeto, di medio e lungo periodo. Chiaramente anche per loro è previsto un percorso costante di aggiornamento sia dei soci sia dei propri collaboratori, crediamo molto nella formazione, crediamo molto particolare nella formazione continua, quindi nella continua ricerca del miglioramento imprenditoriale. Vediamo un po', sono due minuti i mercati, vediamo come ci ha anticipato anche l'assessore in apertura e con piacere che confermiamo, dato Nielsen di settembre, la leadership di mercato nelle marche, nel canale supermercato, siamo giunti ad una quota di oltre 22%, la stessa cosa per quanto se consideriamo il canale supermercato e libero servizio. Questa crescita è stata importante soprattutto negli ultimi anni e ci ha permesso di raggiungere la leadership nel settore. Dobbiamo comunque continuare nel processo di crescita per consolidare appunto questa posizione. Venendo allo sviluppo della nuova rete, agli investimenti e a quelli che interessano poi a tutti i nostri stakeholder, nel 2017 sono previste quattro aperture, due aperture sono state già consolidate, in particolare una sul nuovo mercato a San Benedetto del Tronto di circa 800 metri quadri di area di vendita che abbiamo aperto nel mese di marzo, abbiamo aperto un supermercato sempre di 800 metri di area di vendita a Castelfidardo, abbiamo in prossima apertura sul nuovo mercato a San Elpidiamare un superstore di 1300 metri quadri di area di vendita e i primi giorni di dicembre abbiamo in previsione di aprire a Falconara sempre un superstore di 1300 metri quadri di area di vendita. 18-19 abbiamo già in pipeline tre investimenti, tutti nel più moderno canale che noi definiamo appunto superstore, uno in provincia di Pescara, uno in provincia di Ancona e uno in provincia di Macerata, quindi continua la politica di sviluppo, la politica di ricerca di nuovi mercati da presidiare. Grazie.